che ha detto anche quel giorno, che è bellissima. E credo che in queste pochissime parole che sto per dire, tutti quanti noi ci siamo legati e sono convinto che anche i miei compagni condividono quello che sto per dire. Scusate, nella Lazio ho trovato ciò che cercavamo. Nella Lazio abbiamo trovato ciò che cercavamo. Grazie. Grazie.